Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Iniziamo con una notizia di cronaca. Un uomo di 51 anni di Avezzano è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Un nuovo episodio di violenza ai danni della moglie, sul quale già pesava un provvedimento emesso dal questore dell'Aquila sulla base di una denuncia presentata dalla donna per una precedente aggressione. L'ultimo episodio è avvenuto l'altra notte, quando il 51enne ha aggredito la moglie tra le mura domestiche, ma il figlio è intervenuto in difesa della madre, bloccando quindi il padre e frendolo ad una spalla. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, accompagnandolo in ospedale per le cure necessarie. L'uomo trasportato appunto per le cure al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano è stato sottoposto a delle fasciature e dimesso con una proniosi di alcuni giorni. E' stato in seguito trasferito nella casa circondariale San Nicola di Avezzano, in attesa dell'udienza di convalida. Si è svolto a San Benedetto dei Marsi il convegno La Battaglia dei Piani Palentini, detta di Tadiacozzo, che rientra nel progetto Marsica Medioevale, nato per la volontà dell'architetto Lorenzo Fallocco, presidente del Centro Studi Culturali D'Angio, con l'attiva collaborazione dei comuni marsicani. Con lo stupendo fondale della portale della cattedrale di Santa Sabina, si è dato quindi il via agli approfondimenti culturali, grazie al professor Franco Salvatore, che ha introdotto la vittoria Guelfa e le sorti della regione Marsa, e al professor Pierluigi Magistri, che ha relazionato sulla diocesi dei Marsi e l'avvento angioino. Incesivo l'intervento della giornalista Eleonora Marchini, responsabile Polis Sviluppo e Azione Abruzzo. Il sindaco di San Benedetto dei Marsi, l'avvocato Quirino Dorazzo, ha espresso grande soddisfazione nell'essere partecipe al progetto Marsica Mediovale. Ora vediamo il servizio. Eleonora Marchini, un incontro per un convegno oggi nel contesto del progetto Marsica Mediovale. Siamo a San Benedetto dei Marsi, è inevitabile parlare della cività di Marruvium. Un percorso storico non indifferente, come lo ha intrapreso? Allora, Marruvium è una realtà che in realtà è ancora nascosta, vive di un retaggio del passato che è tutto ancora da riscoprire. Quindi questo percorso sarà molto lungo e anche difficile perché spesso le cose che vanno seminate non riscuotono subito dei consensi a livello pratico, immediato. Sono cose su cui bisogna lavorare, su cui bisogna impegnarsi, riscoprire il valore di quello che è un territorio partendo dalla conoscenza e dalla cultura della propria storia. E questa è una cosa fondamentale. Marruvium non è più solamente un luogo fisico, geografico, ma diventa un luogo sociale, un luogo più ampio da veramente valorizzare e riscoprire. Questo dovrebbe essere il progetto, il punto di arrivo di questo percorso che in questo momento partendo da questa occasione della rivocazione del ricordo della battaglia dei Piani Palentini su cui c'è anche una simpatica contesa tra i vari paesi che si litigano un po' il luogo esatto dello svolgimento. Partendo da questo si deve appunto progettare e avere ben chiaro il fine, cioè far scoprire, far riscoprire a chi vive questi luoghi la bellezza e i tesori che hanno per le mani. Quirino d'Orazio, primo cittadino di San Benedetto de Marsi, prosegue e si arriva qui in un percorso di Marsica Medioevale, un convegno per mettere in evidenza quelle che sono le tematiche, ma anche un'iniziativa, quella di mettere in rete varie amministrazioni comunali. Sì, sicuramente è un progetto che ha un ampio potenziale, una capacità di unire tantissimi comuni e tantissime amministrazioni comunali con uno spaccato storico importantissimo che riguarda il nostro Medioevo e che almeno qui a San Benedetto è giusto che venga posto all'attenzione di tutti coloro che magari non sono a conoscenza di questo spaccato storico così rilevante. E leggere dalle fonti, dalla storia che Carlo I d'Angiò, dopo la vittoria dei Campi Palentini, citata anche da tante, è venuto vittorioso a far tappa a San Benedetto, ci rende orgogliosi. Ed è per questo che abbiamo voluto sposare questo progetto fantastico di Marsica Medioevale per fare luce su un arco temporale di cui si conosce ancora, almeno per San Benedetto, molto poco. Quindi come città di San Benedetto abbiamo voluto dare luce su questo periodo storico perché è giusto che si conosca una storia così importante. Poi mettere in piedi questo convegno davanti a questo portale, che è il portale dell'antica cattedrale di Santa Sabina, la più antica cattedrale cristiana della regione Abruzzo, ci fa capire che già all'epoca, anno 1268, vedere un ospite così illustre, Carlo I d'Angiò, venire a fare tappa qui vuol dire che aveva una sua rilevanza politica, storica e non solo religiosa. Ed è giusto che vi sia di visita la luce. Professor Pierluigi Magistri dell'Università degli Studi di Tor Vergara a Roma. La diocesi dei Marsi e l'Avento Angioino. Un Carlo d'Angiò che sappiamo molto propenso, molto vicino al papato, Clemente IV, ne diventa protagonista in questo contesto. Che cosa succede in quel periodo nella diocesi dei Marsi? Diciamo che cambiano tutte le strutture del potere perché è dall'esterno, dalla Francia, che arriva nuovi input al territorio marsicano e cambiando le strutture del potere cambiano anche le relazioni con la diocesi. E poi c'è un elemento perturbante, molto importante, che viene inserito all'interno del territorio marsicano che è l'abbazia di Santa Maria della Vittoria che sconvolge completamente tutto l'assetto fino ad allora consolidatosi nella Marsica perché porta appunto i cistercensi a sostituirsi in qualche modo, in maniera molto forte, molto preponderante, alla struttura classica benedettina. E quindi, insomma, ci sono degli sconvolgimenti che non c'erano stati nei secoli precedenti. Si rimpasta un po' tutto l'assetto territoriale. Positivo o negativo l'ingresso di Danjoo? Ma sicuramente positivo per le trasformazioni che avvengono. Certo, l'avvento del Danjoo ha fatto sì che si ritardasse quell'unificazione nazionale che invece in quegli anni si stava realizzando in altri contesti europei ma tuttavia ha portato delle fortissime innovazioni nella Marsica. Quindi per la Marsica è stato sicuramente un effetto positivissimo perché ha riaperto i contatti con Roma. Quindi questa relazione est-ovest che si era interrotta con la caduta dell'impero romano e che riprende adesso con l'avvento Angioino. Altrimenti la Marsica sarebbe stata tagliata fuori dalle direttrici della viabilità e della comunicazione come è stato nei secoli precedenti. Nell'ambito dell'operazione strade sicure di agenti hanno identificato 8.049 persone, 2.790 bagagli controllati, 5 arrestati, 57 indagati, 94 sanzioni elevati, di cui 33 in materia di sicurezza ferroviaria. Il bilancio dell'ultima giornata dell'operazione Stazioni Sicure che ha visto impegnati 1.367 operatori della Polizia Ferroviaria in 457 stazioni ferroviarie. Le attività mirate al controllo di bagagli e passeggeri in considerazione dell'aumento dei passeggeri in questa stagione estiva sono state supportate anche da unità cinofile nelle stazioni di Milano Centrale, Roma, Termini, Bologna Centrale, Napoli, Pescara, Bari, Palermo, Agrigento, Genova Principe, Genova Brignole, Verona Porta Nuova e Bussoleno. Le pattuglie ci sono avvalsa anche di smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale di documenti e di metal detector. In particolare la Polizia Ferroviaria per le Marche Lombria-Abruzzo di Ancone ha identificato 345 persone, controllato 107 bagagli, ispezionato 32 scali ferroviari, ispezionati e denunciato una persona in stato di libertà. Il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo ha partecipato questa mattina alla cerimonia di avvicendamento del comando del battaglione Vicenza presso la caserma Pasquali dell'Aquila. Il comandante Francesco Maria Sabatini è subentrato al perigrado Lorenzo Rivi. Ho preso parte alla cerimonia e alla presentanza delle istituzioni regionali quale segno di riconoscenza e gratitudine verso gli alpini. Le donne e gli uomini di questo battaglione svolgono spesso il proprio lavoro in condizioni ambientali difficili, in situazioni emergenziali, come in occasione del soccorso prestato alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia. Queste le parole di Roberto Sant'Angelo che ha aggiunto. È un battaglione composto da personale appositamente formato per essere impiegato nell'antincendio boschivo in caso di alluvioni e calamità naturali e per tale motivo affianca la protezione civile, dimostrando in ogni occasione il profondo senso di abnegazione unito ad un'alta professionalità. E prende il via oggi a Barrea la tanto attesa festa nazionale dei borghi autentici che si svolgerà fino al 1 settembre. L'evento rappresenta l'occasione per svelare l'abruzzo forte e gentile, scarigno di storia, natura e di tanti borghi che lo caratterizzano. Ha sottolineato Mauro Febbo, assessore regionale al turismo. Grazie al sostegno e al contributo della regione Abruzzo, il calendario della festa nazionale dei borghi autentici che quest'anno appunto sceglie Barrea come vessillo della sua decima edizione si presenta ricco di attrattive di ogni genere. Una a tre giorni quindi di cultura, natura, street food, musica, ballo, laboratorio e divertimento tra i suggestivi scorci di un paesaggio che rapisce il primo sguardo. Patti è proprio il paesaggio inteso come testimone del valore identitario il tema portante degli incontri che saranno condotti da nomi di spicco nei temi dello sviluppo sostenibile, architettura, mobilità dolce, piccoli comuni e turismo. Non mancheranno testimonianze di intere comunità locali impegnate nella valorizzazione e preservazione del loro paesaggio. Tante poi le iniziative in programma tra cui la presentazione della guida viaggio nei borghi d'Abruzzo, la presentazione del film documentario in questo mondo. Evento nell'evento il festival del saltarello, gruppi che gariggiano per contendersi la vittoria finale. Quasi cento artisti tra ballerini e musicisti ad animare le vie del borgo, uno spettacolo di suoni, colori e melodie della tradizione abruzzese. Chi vuole accimentarsi nel saltarello potrà frequentare gli stage aperti al pubblico mentre i bambini si divertiranno scoprendo i giochi antichi. E poi ancora lo spettacolo teutrale Orsitudine della compagnia Lanciavicchio in cui si racconta l'orso marsicano. L'Abruzzo, maglia nera in Italia per acquisti dei farmaci. I dati da gennaio a settembre del 2018 non lasciano spazio a dubbi. Siamo la sesta regione per spesa farmaceutica ospedaliera e addirittura la prima nel paese per spesa farmaceutica territoriale convenzionata. Parliamo di una delle più importanti boci di costo della nostra sanità cioè il 20% del conto economico del servizio sanitario regionale. Un esborso che andrebbe contenuto con un serio studio e una programmazione che elimini le spese superflue ma che continua a garantire l'accesso ai farmaci per tutti quei cittadini che ne hanno reali bisogno. Invece la ragione che fa è un taglio di 40 milioni di euro senza nessuna programmazione costringendo le ASL a dare meno farmaci. Si taglia la spesa quindi senza spiegare come saranno garantiti ai cittadini i farmaci necessari per continuare ad avere condizioni di vita dignitosa. Ancora una volta invece di eliminare i grandi sprechi della sanità pubblica si va a inficiare i suoi servizi al cittadino. Questa è la denuncia dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Petinari che continua. Secondo l'AIFA nel 2018 la spesa farmaceutica per la regione Abruzzo si è attestata su 347,3 milioni di euro di cui 161 milioni di euro per la spesa convenzionata e 185 per gli acquisiti diretti. Successivamente la regione Abruzzo ha approvato la delibera di giunta ad oggetto misure di governo della spesa farmaceutica assegnazioni a tetti per l'anno 2019 ed obiettivi direttori generali delle ASL per il contenimento della spesa farmaceutica per gli anni 2019, 2020 e 2021. È ovvio che per il contenimento della spesa farmaceutica continua Petinari e la determinazione di tetti di spesa per le singole ASL ci si aspettava un piano che prevedesse la programmazione di misure strategiche utili a combattere l'uso eccessivo dei farmaci. Non è pensabile che l'azione di una giunta regionale si limita a dire che l'ASL di non prescrivete più i farmaci. Le proposte secondo Petinari quindi sono utilizzo di farmaci monodose, digitalizzazione del sistema sanitario è una corretta informazione. Le imprese non direttamente danneggiate dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016-2017 possono presentare al commissario straordinario del governo per la ricostruzione Farabollini le manifestazioni di interesse per i contributi del bando INAIL destinati alla messa in sicurezza di immobile impianti ad uso produttivo. Si tratta di 30 milioni di euro di agevolazioni per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori dei 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, come detto. Entro il 30 settembre dell'anno corrente attraverso una piattaforma informatica predisposta da Invitalia tutte le imprese che intendono soffrire dei contributi comprese quelle che abbiano già effettuato lavori compatibili con le finalità dell'ordinanza numero 82 del 10 luglio possono inviare al commissario straordinario la manifestazione di interesse a presentare la domanda di contributo obiettivo stimare il numero delle potenziali richieste di finanziamento da parte di tutte le imprese che pur non avendo subito danni a causa del sisma intendano effettuare interventi di rafforzamento locale miglioramento sesmico messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti negli immobili sede dell'attività sulla base del numero di manifestazioni di interesse che perverranno e l'entità economica degli interventi proposti il commissario straordinario emanerà un'apposita ordinanza che fisserà le percentuali di contribuzioni sulla spesa ammissibile e gli importi massimi finanziabili aumentano gli stabilimenti balneari in Abruzzo crescendo del 23,3% negli ultimi 10 anni sono 423 quelli registrati a giugno di quest'anno contro i 343 del 2009 con Pescara nella classifica dei primi 20 comuni italiani per numero di imprese registrate ben 84 per 14,5 km di costa i dati emergono dall'indagine di Union Camere Info Camere sulla base del registro delle imprese e delle camere di commercio numeri che rendono bene l'idea di cosa rappresenti il turismo balneare un aspetto analizzato negli ultimi giorni di ferie per i vacanzieri nella giornata nazionale dei balneari italiani che si è svolta nei giorni scorsi finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica sul ruolo funzione e importanza della balneazione attrezzata italiana e sull'urgenza di risolvere la questione della Bolgestein istituita nel 2006 la direttiva impone la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno dell'Unione che per quanto riguarda le nostre spiagge significa fare gare d'apalto per le concessioni agli stabilimenti balneari la giornata di mobilitazione è stata organizzata dal sindacato italiano Balneari aderente a Fipe Conf Commercio gli aderenti hanno voluto richiamare così l'attenzione delle istituzioni sul ruolo della balneazione attrezzata italiana e per informare dettagliatamente l'opinione pubblica in Abruzzo delle 423 imprese 88 sono a conduzione femminile il 28% del totale di cui 26 giovanili una percentuale superiore a quella dell'Emilia Romagna dove le imprese femminili sono appena 190 su un totale di 1.064 il raffronto non è casuale proprio perché la riviera romagnola risulta ancora una volta essere la culla delle imprese impegnate nelle attività di gestione di stabilimenti balneari 1.064 su 6.823 complessivamente operanti in Italia e si è conclusa domenica scorsa la terza edizione di Strano Film Festival dato scena a Capistrano il festival internazionale di cinema è stato dedicato alla terra ogni anno il festival ha un sottotema e quest'anno è stato scelto la terra del futuro che ha indagato le nuove idee e le sperimentazioni in atto per uno sviluppo positivo della terra passando attraverso l'agricoltura sostenibile l'ambiente e la migrazione l'evento ha ospitato artisti provenienti da tutto il mondo la giuria internazionale ha decretato il film vincitore della terza edizione a Aguamole ha presentato anche a Cannes un film documentario con le voci narranti in presa diretta e le loro parole che diventano volti oggetti maschere simboli trascinati nel vento due dimensioni d'onore ha Il limite di Edmondo Riccardo Annone una narrazione al femminile che affronta il tema della morte con stile tanto documentaristico quanto onirico e da Miraila un cortometraggio d'animazione realizzato collettivamente da un gruppo di 19 artisti dell'università dei paesi baschi e il Cap Strangers Award è andato al film Atom Sunen di Pedro Collanz la vicenda di due persone che nonostante non parlino la stessa lingua si sforzano di comunicare tra loro e novità assoluta di questa edizione è stata l'esperienza di realtà virtuale che consiste nel guardare film in un display montato sulla testa e che ha permesso di vivere storie in un modo nuovo completamente immersivo e questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti noi vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Vezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci grazie per aver guardato grazie a tutti